Settembre è il mese che sancisce la fine delle vacanze estive e il ritorno sui banchi di scuola per i più piccoli, al lavoro per i più grandi e anche il mese in cui sorge spontanea una domanda, come andrà quest'anno? Speriamo che vada meglio, io sono tanto preoccupata, tanto tanto, chiudono i teatri, chiudono i cinema, è veramente pazzesco e quindi è un periodo durissimo. Lo vedo migliore perché peggio di così non si può. Quindi secondo lei si è già toccato il fuoco? Deve andare meglio per forza, deve andare meglio. Secondo lei? Spero nel meglio, poi si vedrà. Come è andato quello appena passato? Più o meno, diciamo che potrebbe andare peggio però... Molto difficile, cioè non è modificato, non si è modificato nulla, se l'intervista veniva fatta a gennaio o a marzo era la stessa cosa. E il 2015 come sarà? Uno spera, spera in qualcosa di meglio. Se lo sapessi andrà in televisione. La vedo grigia, come il cielo in questo momento, sì. Non ho tanta fiducia nel governo attuale perché mi sembra che stiamo facendo tante riforme accozzate una all'altra ma senza un criterio logico. Che quindi non porteranno a miglioramenti secondo lei? Assolutamente no. La speranza è l'ultima a morire, direi migliore. Quindi positiva. Ma sì, bisogna sempre essere positivi, altrimenti qua tutti i giorni è dura poi andare avanti. No, no, non ho idea, guardi. Secondo me non vedo prospettive di miglioramento, assolutamente. Quindi un po' pessimista. No, non sono pessimista perché comunque se perdiamo la speranza abbiamo perso tutto. Però non vedo prospettive e ci dispiace questo. Non ho delle grandi prospettive, non ho delle grosse speranze. Come mai? Come mai la situazione mi sembra piuttosto debilitata, tragica, direi quasi. Speriamo meglio, speriamo... Non la vedo convintissima. No, 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 sì. No, la speranza è sempre l'ultima a morire. Insomma, le prospettive potrebbero essere buone. Basta avere un po' di inventiva, basta avere un po' di voglia di fare. Certo non siamo in una situazione ottimale, no? La speranza è che sia sempre migliore, però diciamo che non basta forse l'impulso che sta dando questa politica. E quindi bisognerebbe mettere in atto delle strategie economiche, soprattutto di occupazione, diverse. Peggiore. Addirittura. Sì. Come mai? Perché lei guardi, passi nelle strade, guardi quante cinesche abbassate ci sono. Io che cammino parecchio, ne vedo parecchie, che stanno chiudendo e non riaprono più. Quindi nessun miglioramento secondo me? Nessun miglioramento. That's all.